Amici di Ekinfon, oggi eseguirò l'impact test su LG Optimus Dual. Il terminale non ha ancora ricevuto in maniera ufficiale, in maniera ufficiosa sì, la versione di Gingerbread, Android Gingerbread, e quindi questo telefono monta ancora la versione 2.2.2 di Android. Lanciamo l'applicazione per eseguire il test, faremo 3 test come di consueto, 38.141, di solito dava valori più alti, 40.092, 39.441. Il valore più alto di questi tre test è stato il secondo con 40.0, adesso non ricordo, un valore molto molto alto, non il più alto, il secondo forse più alto davanti vi è soltanto Samsung Galaxy S2, però, come ben sapete, il test non è attendibile dato che il Samsung Galaxy S2 ha la versione di Android e Gingerbread e quindi non possiamo fare un paragone attendibile neanche a livello di numeri. Appena arriverà la versione ufficiale di Gingerbread su LG Optimus Dual, perché andarla a mettere, sì, grazie alla community si può mettere, c'è anche molta stabilità, però i test non danno il risultato reale, non è reale perché una cosa è Gingerbread ufficiale, un'altra è Gingerbread dato dalla community. I test poi lo sicuramente confermeranno. Ugo 800 per Ekinfon è tutto.